E' pura passione. E' solo tutta ricerca. Perché l'uomo ha per natura un bisogno innato di raccontare storie. A noi ci stiamo impegnando da tantissimo tempo a rendere questa disciplina una vera e propria arte. Sento che non siamo solo noi undici in pista. Ci sarà la sottolineatura che stiamo facendo un buon lavoro e sarà il rilancio per continuare. Più possiamo investire sulle nostre qualità possiamo presentare anche delle cose molto più belle. Perché vuol dire che ogni passionatore può essere riconosciuto come un artista. Noi abbiamo solo bisogno del vostro contributo per fare in modo a questo sogno. Non resti sordi quelle undici persone in pista ma diventi tutti quanti. E' il vostro modo per dire rinnovazio. Continua così, io sono contenta. E' più potente quando io penso a qualcosa che è fuori da me. E' più potente quando io penso a qualcosa che è fuori da me. Alla prossima